Quando vuoi? Vado? Capovaro, vado? Vado? Passo! Con me stamattina c'è la dottoressa Marilu Napoletano che è candidata capolista al Partito Democratico per le regionali, quindi si scaldano i motori dottoressa, siamo pronti, manca un mese, un mese e mezzo, ma perché Marilu Napoletano è scesa in campo? Allora, intanto siamo pronti, siamo prontissimi, manca meno di un mese e mezzo. Grazie a tutti. 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 che questa amministrazione regionale ha fatto, soprattutto nella promozione del territorio, per quanto riguarda anche la possibilità che la Puglia tornasse o venisse per la prima volta alla ribalta mondiale, quindi se il National Geographic definisce la Puglia come la regione più bella del mondo è perché qualcuno l'ha portata alla luce in questi termini. Quindi credo che bisognerà continuare quello che di positivo è stato fatto, certamente intervenire per lavorare sulle criticità, per esempio penso alla questione dei rifiuti, che è una grande sfida per tutti, è legata chiaramente anche alla gestione degli enti locali che si trovano a dover muoversi all'interno di un campo minato, noi lo viviamo da vicino, questo problema per esempio della raccolta differenziata a monopoli, degli altissimi costi per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, la tasse e le sanzioni che anche a livello regionale si sono dimostrate non essere un paliativo, nel senso che la raccolta differenziata non solo a monopoli è bassissima, ma questo voglio dire in media anche negli altri comuni della regione, quindi bisogna sicuramente porsi come obiettivo nell'amministrazione regionale quello di chiudere il ciclo dei rifiuti, ce ne sono tanti di temi, potremmo parlare tantissimo. Praticamente c'è tanta sicurezza in questo colloquio che stiamo facendo, si vede che è cresciuta a pane politica, però figlia d'arte, sorella d'arte, cioè lei è vissuta nella politica, però volevo chiedere, voglio fare una domanda un po' più cattivella, Ci sono state delle titubanze, ci sono delle paure? Nel caso in cui si vince, qual è la titubanza che lei prova, che teme, arrivando lì al Consiglio regionale? Allora, questa domanda nel corso degli anni mi è stata fatta diverse volte per i vari obiettivi che magari mi sono posta e ogni volta ho risposto che non vorrei sembrare presuntuosa, ma io non ho paure, Nel senso che chiaramente c'è l'umiltà di approcciarsi ad un percorso nuovo come ho sempre fatto, cioè studiando, approfondendo i temi, essendo consapevoli prima di quelli che sono i miei limiti, ognuno di noi ha dei limiti, basta esserne consapevoli e cercare appunto di capire come migliorarsi. Forse la paura non è che non c'è, non la sento per una dose di incoscienza, probabilmente uso un termine diciamo incoscienza, però chiaramente con una diluizione, diciamo così, diluita al positivo, perché ho una grande squadra accanto a me, che mi dà molta sicurezza, io non mi sento sola, ecco, e quindi magari anche nella distribuzione di questa, tra virgolette, paura, io ho paura, posso contare nel distribuirla anche agli altri, non la sento probabilmente perché c'è un gruppo che lavora a fianco a me costantemente a quale posso affidarmi per qualsiasi cosa, quindi c'è la voglia di centrare questo obiettivo, la voglia di fare, di fare cose che per sette anni, purtroppo da consigliere comunale all'opposizione, non ho potuto fare. Finalmente le donne trionfano in politica, le quote rosa, ma nel momento in cui lei è stata eletta, è stata capoletta, ha visto qualche remora da parte degli uomini, oppure le donne cominciano a essere accettate e quindi fare un passo ancora più importante dal Consiglio Comunale, dall'amministrazione comunale, si va in regione. Stanno cambiando le cose praticamente, dottoressa? Allora, se dovessimo guardare le percentuali, no, nel senso che in Italia le percentuali di donne, il livello di donne che ricopre ruoli importanti, diciamo, e i ruoli istituzionali e negli organi elettivi sono molto basse, sono bassissime, credo che siamo intorno a un 20%, quindi questa è una realtà oggettiva. Però, per quello che è la mia esperienza personale, posso dire di aver raggiunto anche questo obiettivo della capolistatura e della candidatura prima ancora di avere, tra virgolette, la garanzia di essere capolista, insomma, in termini proprio di scelta, perché io ho dato questa disponibilità quando non sapevo che avrei fatto la capolista, quindi anche in questo c'è stata una dossier, se qualcuno ha chiamato in coscienza, io diciamo, dico che la fortuna aiuta anche le audaci a volte, e la politica è anche avere una lungimiranza su quello che potrebbe succedere. Ripeto, io ho potuto giocarmi in questa chance perché sono stata sostenuta prevalentemente dagli uomini in questo percorso e anche dalle donne. Ricordiamo però quello che è successo circa un paio di mesi fa, quando in Consiglio regionale è stata bocciata ed affossata la legge sulla doppia preferenza di genere ed è stata affossata da consiglieri sia di centrosinistra che di centrodestra che probabilmente hanno temuto che le donne in qualche modo potessero, come dire, più che altro rendere difficile il loro percorso. Questo è un dato di fatto, tant'è che Michele Emiliano poi ha deciso anche di sostenere la mia candidatura, di sostenere in maniera forte, dichiarando pubblicamente che avrebbe votato per me, perché bisogna fare l'aggiunta, la legge regionale nuova lo prevede, e bisogna farla con un numero di donne elette. Quindi è importante che le donne poi arrivino in Consiglio regionale e che quindi ci sia un ingresso principale, che le donne vengano non soltanto scelte magari per fare gli assessori, ma che vengono elette come consiglieri regionali. Se fossimo in un paese, permettetemi il termine, da questo punto di vista, avanti un po' più, diciamo, di ispirazione europea, non ci sarebbe neanche bisogno delle quote rosa. Purtroppo, però, oggi come oggi, per chi lo fa, insomma, per chi questa esperienza ha la scelta di fare sette anni fa ed è stata eletta come consigliere comunale per due volte, quindi esprimendo una preferenza da parte dell'elettore, vi posso dire che per una donna è molto più complicato, perché siamo in un ritardo storico, cioè noi abbiamo avuto diritto di voto in Italia tardissimo, per cui questo sicuramente incide. C'è anche la... Un po' di mentalità, poca poca? Anche. Io, infatti, questa candidatura mia la vedo anche come un'esortazione, proprio per le donne, per le mamme, per le donne che lavorano e che hanno magari visto e tendono a vedere la politica come una cosa che non le riguarda. Questo è sbagliatissimo, secondo me. Uno, perché io non sono per le quote prevalentemente rosa, nel senso che io sono per la collaborazione tra uomo e donna, che è una collaborazione, guardate, sembrerà banale, ma testata nel corso dei secoli nella storia, nella famiglia. Cioè la famiglia, che è il sistema istituzionale mondiale, diciamo, umanitario, è un sistema che si fonda sulla collaborazione tra uomo e donna. Ora, non mi è ancora capace del fatto, non mi è capace del fatto come mai, anche a livello degli organi elettivi, dei consigli regionali, comunali, i sindaci, i presidenti di regione, non capiscano che per far funzionare meglio quest'organo, secondo me, è necessaria una collaborazione tra l'universo maschile e quello femminile. La famiglia, anche lei è una famiglia, un bimbo, diceva, di tre anni e mezzo. Con questo impegno, se lei dovesse vincere, ci ha pensato? Allora, io ci penso sempre, nel senso che, sendo una persona che fa sempre, diciamo, tante cose, sono sempre, come ogni mamma che lavora e che si impegna, magari combattuta anche tra i vari sensi di colpa, questo rientra nell'essere donna, diciamo, ho la fortuna di fare una professione che da questo punto di vista è croce delizia, nel senso che, da un lato, mi pone sempre nell'ottica, insomma, dell'approfondimento delle dinamiche familiari e degli stili educativi. Dall'altro, però, mi sostiene perché il tempo che io dedico a mio figlio è un tempo nel quale cerco di insegnargli, insomma, che quello che si fa, si fa perché si seguono le proprie passioni e questo nella vita va sempre difeso, va sempre difeso e va sempre portato avanti. Io, chiaramente, so che nel caso in cui fossi eletta il tempo probabilmente, magari, sarebbe meno, per fortuna, però il tempo che passo con lui è sempre un tempo arricchente, nel senso che cerco di dargli sempre tanto, sempre pieno e ho anche una grande rete familiare, una grande nonna che mi consente di fare tante cose, stando magari con lui, anche un papà che è molto collaborativo, quindi la famiglia è fondamentale in questo percorso. Quindi, dopo tutto questo bel colloquio, questo approfondimento, noi ci rivedremo, però le diamo già i nostri auguri di buon proseguimento in questa campagna elettorale. Arrivederci a presto.